salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti molto felici di tornare nuovamente con voi abbiamo in mente di fare più video vogliamo se il signore lo permetterà a dedicare un video finalmente alla cripto moneta nello specifico tratteremo il bitcoin per una questione di piattaforme è molto tempo che ho intenzione di dedicare un video al bitcoin ma siccome non riuscivo a trovare il tassello che lo collegasse alla parola di dio ho sempre evitato di farlo perché è inutile parlare di quello che non si comprende di quello che non si conosce laddove non c'è competenza è meglio tacere e quindi ho sempre rimandato ma proprio in questi giorni invece ho scoperto per caso il tassello e poi da lì ho cominciato a investigare perché in verità non è che ho proprio investigato un granché nel passato e ho scoperto molte altre cose che sono abbastanza recenti ecco anche perché comunque prima molte cose non si sapevano e quindi sì sì il la cripto moneta è collegata è collegata perfettamente alla parola di dio per quanto riguarda il discorso profetico quindi se il signore vorrà faremo un video su su questo argomento poi abbiamo intenzione anche di fare un altro video che già abbiamo fatto però lo vogliamo ripetere chissà dove starà in mezzo a tutti questi video che abbiamo fatto dove parliamo della cosiddetta confessione positiva decretare ordinare perché è scritto in marco se tu dirai a questa montagna vai lì e gettati nel mare la cosa succederà allora come dire l'apostasia ha colto quel verso per infilare nella chiesa di gesù cristo la metafisica di aristotele roba satanica no chi decreta chi ordina è solo il signore noi preghiamo per cortesia noi preghiamo leggete i passi nel contesto dovrete rendere conto a dio voi che avete la responsabilità del greggio e state permettendo queste aberrazioni nella chiesa ma di questo se il signore vorrà ne parleremo speriamo presto poi volevo fare un altro video non ha importanza su cosa insomma tutti questi video alla fine tanti che ne volevo fare alla fine ne ho fatto nessuno rimanda 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 finché per caso oggi apro apro tutti diciamo le mie poste elettroniche insomma il canale di youtube eccetera eccetera e mi arriva una mail una mail un comunicato non è stata una mail un comunicato e da parte di un amico cattolico che io saluto e che dio ti benedica e mi fa una serie di domande ora siccome noi chi ci conosce e anche questo amico cattolico ci conosce perché dice di seguire tutti i nostri video e grazie per l'incoraggiamento e noi chi chi ci conosce sa che siamo persone molto serie molto serie almeno cerchiamo di esserlo poi nessuno è perfetto e non noi non svegliamo mai le identità delle persone che ci scrivono mai siano questi amici siano nemici che ci scrivete ci insultate e qualcuno ci minaccia no 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 la privacy in questo canale sarà sempre a dio piacendo garantita sempre la privacy non si tocca è una cosa proprio che io ci ritengo tantissimo quindi non faremo il nome di questa persona ok lo chiameremo l'amico cattolico alleluia mi ha scritto e qui davanti ho la lettera diciamo la lettera eccola qua che che mi ha mandato leggeremo un po le sue domande perplessità asserzioni quelle pochissime cose di personale che ha scritto non le leggerò perché anche se non faccio il nome io non metto in piazza le cose personali degli altri lui mi fa una domanda e io gli rispondo pubblicamente perché 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 posso a roma si dice con la fava due vicioni così nel rispondere a questo amico cattolico rispondo a tanti altri siano questi fratelli siano non fratelli siano evangelici cattolici protestanti atei insomma così con questa cosa ho la possibilità di comunicare un po con tutti soprattutto perché io ci tengo a fare questo perché non sono pochi cattolici che ci seguono e già l'ho detto in altri video e io sono rimasto ringrazio insomma per il seguito siccome questo fratello voglio un po anticipare gli spiriti questo amico cattolico ci praticamente quello che dice è proprio il pensiero biblico perché lui presenta delle perplessità ma nel presentare queste perplessità lui proprio dice quello che è scritto qualcuno dire a vabbè tu lo chiami amico perché praticamente la pensa come te beh non è così perché giusto per farti un esempio se tu vai a vedere sotto i nostri video gli ultimi video c'è stato un cattolico che è conosciuto sulla rete perché c'è un canale di youtube ma scritto e mi ha detto un sacco e varolacce e io gli ho messo il cuoricino come dire ti amo in cristo gesù poi lui che cosa ha fatto ha cancellato non sto facendo il nome perché anche se i nemici non ci mettiamo a fare i nomi ha cancellato il commento e mi ha scritto un'altra cosa per insultarmi e dandomi del protestante no quando una persona cosciente da un punto di vista storico sa perfettamente che noi evangelici proprio non possiamo essere protestanti perché il protestantesimo nasce nel 500 e nell'anno 1000 già c'eravamo noi evangelici quindi mi spieghi come facciamo noi a essere protestanti dice perché protestate tutti protestano pure i cattolici protestano su quello che noi diciamo non siamo protestanti quindi è inutile che continuate a chiamarci così a meno che non è per insultare e vabbè continuate quindi non è che io mo questo qui questo signore che scrive gli voglio bene perché la pensa come me no io voglio bene a tutti i cattolici noi amiamo tutti i cattolici parliamo in questo in questo video si parlerà di alcuni pensieri cattolici quindi caro amico che scrivi a questo piccolo canale suscitando delle perplessità presentando delle domande fondate su alcune asserzioni leggerò quello che tu scrivi e allora tu scrivi e mi dici caro amico fratello alessio sono dici il tuo nome no sono così sono dici il tuo nome ok non lo dico ci mancherebbe e poi dici di essere cattolico benissimo poi continui e dici seguo tutti i tuoi video in base a ciò che ho capito negli anni in una contesa dottrinale con i cattolici sull'argomento poi dici maria sempre vergine prima durante e dopo il parto questo è quello che tu scrivi poi dici ho scritto un post citando diverse scritture che ti posto quindi sei uno che scrive benissimo allora dopo inizi aver messo al mondo il messia maria ha vissuto una vita di castità punto di domanda la presenti così e poi prosegui con un'altra domanda e dici ovvero ha avuto una normale vita coniugale con giuseppe allora io qui ne voglio se non lo ok ok la risposta a queste domande la può dare solo la parola di dio ecco ciò che dice la parola di dio e se tu che parli e sto leggendo inizi a citare una serie di scritture mi citi gloria a dio per tutte le scritture che citi mi citi luca capitolo 1 versi 46 e 47 e dice la scrittura e maria disse l'anima mia magnifica il signore e il mio spirito esulta in dio mio salvatore quindi poi tu dici tra parentesi mio salvatore quindi anche maria dici ha bisogno di un salvatore è così a me poi citi matteo capitolo 1 dal 24 25 leggiamo destatosi dal sonno giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del signore e prese con sé la sua sposa ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio e gli pose nome gesù giuseppe non si accostò a maria fino alla nascita di gesù è sottointeso che dopo la nascita di gesù dici tu giuseppe si accostò a maria e vorrebbe vedere poi dopo ti spiegherò anche perché poi marco capitolo 6 citi verso 2 al 4 venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e i molti ascoltatori stupiti dicevano donde a costui tali cose che sapienza è quella che gli è stata data e che miracoli avvengono per le sue mani non è egli il faligname il figlio di maria e fratello di giacomo giuseppe giuda e simone te nomina quattro persone e poi dice e le sue sorelle non sono qui tra noi e si scandalizzavano di lui però diceva loro non c'è profeta che sia disprezzato se non nella sua nella sua patria tra i suoi parenti e nella sua casa udendo parlare a gesù con grande sapienza molti ascoltatori dissero da dove gli viene questa sapienza e i miracoli che avvengono per le sue mani ma non è il faligname il figlio di maria e fratello di giacomo giuseppe giuda e simone e le sue sorelle non sono qui tra noi poi dici tu gesù aveva quattro fratelli e sorelle gli ascoltatori nella sinagoga non stanno parlando di fratelli e sorelle spirituali ma proprio della sua famiglia questo è quello che tu dici confermo poi mi citi galati capitolo 1 verso 18 verso 19 in seguito dopo tre anni salì a gerusalemme per prendere contatti con cefa e mi trattenni presso di lui 15 giorni degli apostoli non vedi altri ma soltanto giacomo il fratello del signore tu dici qui l'apostolo paolo cita cefa ovvero pietro non come fratello dici tu ma solo giacomo il discepolo come fratello di gesù corretto sì è corretto giuda capitolo 1 1 giuda servo di gesù cristo fratello di giacomo ai chiamati amati in dio padre e custoditi per gesù cristo tu dici riguardo a questa affermazione di giuda 1 1 l'apostolo giuda era fratello dell'apostolo giacomo e giacomo era fratello di gesù quindi anche l'apostolo giuda era fratello di gesù sì è corretto poi citi matteo capitolo 12 dal 46 al 50 mentre ancora parlava le folle sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e chiedevano di parlargli qualcuno gli disse a gesù tua madre i tuoi fratelli stanno fuori e chiedono di parlarti ma egli rispose chi è mia madre e chi sono i miei fratelli quindi stese la mano verso i suoi discepoli e disse ecco mia madre e i miei fratelli chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli questi miei fratello sorella e madre poi dici tu sua madre i suoi fratelli che volevano parlargli era la sua famiglia corretto corretto sto prendendo dei appunti ok prima corinti capitolo 15 verso 1 e 2 mi citi anche questo fino adesso va tutto bene nel senso che biblicamente parlando è questo vi richiamo poi o fratelli il vangelo il vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto nel quale perseverate e dal quale ricevete la salvezza se lo ritenete nei termini con cui ve l'ho annunziato altrimenti avrete creduto in vano il vangelo della nostra salvezza è il vangelo ritenuto per come è stato annunciato seguire dici tu quindi riprendendo questo qua tu dici il vangelo della nostra salvezza quindi è il vangelo ritenuto dici tu per come c'è stato annunciato poi dici seguire dottrine non scritturali e aver creduto in vano ok chi ha orecchie per intendere intenda è giusto poi prosegue dici diversi dogmi sono un altro vangelo corretto che non portano alla salvezza ognuno è libero di basare la sua fede però in ciò che vuole ci mancherebbe noi predichiamo le conseguenze ma poi se uno vuole seguire dottrine che non sono bibliche d'altronde il signore lo permette però ti dice che non lo puoi fare non lo devi fare però se lo vuoi fare come dire ti dà la possibilità anche di di pecare anche di seguire la via del male nell'antico testamento è scritto non seguite la via del male scegliete la via del bene cioè l'uomo nel suo libero arbitrio ha la facoltà di scegliere il male lo può fare però il signore dice se tu lo fai vai all'inferno e no come dicono i legalisti del web che per dare addosso a david wilkerson che ce l'hanno con sto david wilkerson che è stato un santo uomo di dio eccetera 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 ma che vergogna ma che vergogna ma ma denunciate la massoneria e sta roba qua e lasciate stare i veri servi di dio ma per cortesia ma vergognatevi fate pietà e compassione ma questa è un'altra storia quindi se uno vuole seguire una via del male non si può fare ma il dio lo permette e ti dice guarda che alla fine te ne vai all'inferno ecco quindi ben dici tu caro amico cattolico che dio ti benedica poi dici in risposta a questo mio poste ecco qui sei tu che parli mi hanno dato delle reti insomma eccetera 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 ti hanno detto che sei una capra che dovrai fare i conti per aver offeso la madre di dio madre di dio ah dio c'ha una madre non lo sapevo come si chiama e che dovevano scuotersi i sandali per le mie eressie che è una definizione dogmatica del concilio lateranese dense 256 la santa madre di dio è sempre vergine immacolata maria ha concepito senza seme per opera dello spirito santo beh io non lo so se ha concepito con o senza seme perché io certo io personalmente non lo so io so che è arrivato lo spirito santo l'ha adombrata ed è nato il messia poi quello che è successo dentro al ventre di maria nei suoi ovoli come il signore ha operato io questo non lo so posso immaginare che essendo il signore vero uomo posso immaginare che ci sia stato un vero seme posso immaginare questo ma poi alla fine io non c'ero trovo al tempo che trova quello che so è che Gesù è nato non per un uomo ma per dio stesso per lo spirito santo e Gesù è stato vero uomo è stato vero Dio le due nature insieme basta questo mi basta e mi avanza il resto è di più e appartiene a Dio se poi qualcuno lo sa che Dio ti benedica io non lo so non posso sapere tutto nessuno sa tutto quindi ha concepito senza seme per opera dello spirito santo quindi senza seme questo lo dici tu io non c'ero quindi e appartorito senza corruzione questo non è vero perché Maria perché senza corruzione scusa non è vero questo permanendo indissolubile questo non è vero anche dopo il parto la sua virginità questo non è vero che anche perché Maria si dovette purificare secondo i parametri della legge che si trovano nel Pentateuco in particolare non mi ricordo dove credo in Levitico che la donna dopo che aveva partorito si doveva purificare tutti i giorni eccetera 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 e la legge variava anche se si trattava di un parto maschio che aveva partorito un maschio o una femmina addirittura eccetera eccetera e Maria tutte queste cose le osservò quindi Maria in assoluto fu impura da me e poi ti hanno detto chi non crede in questo dogma è un eretico che ti importa che ti chiamo un eretico poi le domande che ti pongo caro fratello Alessio sono ok domanda numero uno allora le scritture che gli ho postato con le mie interpretazioni sono corrette domanda numero uno sì sono corrette poi faremo un appunto sul termine interpretare perché ci stanno le vere capre che sono ignostici tu non sei una capra le capre sono ignostici che sono capre che non sanno né parlare né stasse zitte non conoscono neanche l'italiano non conoscono niente e se non mi ti insegna poi quindi parleremo di interpretare ah poi dici la versione della bibbia che ho usato è una bibbia cattolica versione san paolo anno 1997 mi hanno detto che è una bibbia eretica perché come tante altre quindi i cattolici dicono che le loro bibbie sono eretiche non l'ho detto io quello sta dicendo qualcuno ma è vera sta cosa è vero è vero chiedo ai cattolici è vero che tra di voi voi dite che ci sono bibbie eretiche noi non abbiamo bibbie eretiche ci sono bibbie eretiche sì poi ne parleremo ma non stanno da quelle dei testimoni di genova quella è una bibbia eretica quindi voi dite che questa qui questa versione di san paolo anno del 97 è una bibbia eretica o lo dite voi come tante altre quindi voi avete tante bibbie eretiche per loro quella giusta è quella di gerusalemme c'è non penso sia così ma è confuso perché tu dici gerusalemme c'è non lo so io ho la bibbia di gerusalemme che è questa ma c'è che vuol dire io non sono un esperto in revisioni qui non c'è scritto c'è qui c'è scritto bibbia di gerusalemme ma sto c'è o è c'è non lo so non sono un esperto in revisioni quindi tu dici questa quindi loro dicono che quella giusta è la bibbia di gerusalemme c'è poi dici non penso sia così e manco io però poi poi vediamo loro dicono che in lingua originale aramaico come fratello sorella si intendono i parenti ecco qua qui te volevo qui te volevo se sono dati la zappa sui piedi da soli questi qua che ti hanno parlato perché hanno detto una mega sciocchezza e mo te lo dimostro andremo a vedere andremo a vedere il texto sinaitico così insieme ma te faccio vedere un po' le cose quindi io non tratto le revisioni tratto direttamente il testo originale che senso la revisione è un'altra cosa ancora quindi e quindi nelle scritture citate da me dove viene citato fratello sta a indicare proprio fratello di sangue o parente domanda quindi loro siccome loro dicono in aramaico in aramaico poi è ebraico non è aramaico vabbè lasciamo sta in in aramaico il termine com'era fratello o sorella fratello o sorella ecco fratello o sorella si intendono anche i parenti ma è così o so fratelli di sangue punto di domanda ok guarda qui è facile è tutto facile rispondere perché se sono date un po' la sappa sui piedi un po' tanto perciò che ho scritto nel post senza premeditazione di ingannare ma pensando di dire la verità domanda ho peccato contro Dio no quando si dice la verità non si pecca contro Dio perciò che ho scritto sono un eretico no non sei un eretico o una capra no capre sono gli gnostici ecco poi gli portiamo le carote così alla capra gli piace la carota mangiano tutto la differenza tra pecora e capra questi sono termini scritturali è che la pecora è figlio di Dio e si ciba solo del buon pasto la capra magna di tutto latte pezzi pezzi di latta di ferro tutto qualsiasi cosa quindi si nutre di qualsiasi cosa quindi qualsiasi parola alla capra gli va bene guarda gli gnostici quello che stanno a combinare poi fratello Olessio ti prego di rispondermi e ti sto a dedicar un video perché questa è contesta dottrinale e mi dici un fatto personale che non cito anche se non sto facendo il tuo nome ma bene che ti si rispetti in tutto e per tutto e poi dici vorrei capire se ciò che ho compreso nella parola è corretto o devo ravvedermi ravvederti di cosa stai nella verità grazie di cuore per l'attenzione che spero mi dedicherai a voglia se te lo dedico a voglia ok cominciamo a rispondere allora andiamo un po' nella navigazione virtuale ecco ok siete con noi sul web eccoci qua ciao diciamo così questa volta operiamo così ok allora caro amico cattolico ti farò vedere un sacco di cose allora intanto qui ho preso il vocabolario della lingua italiana no non era questo che volevo com'è non c'è più era tre cani eccolo qua eccolo qua allora eccolo qua allora siccome ci sono le capre le capre agnostiche che dicono che interpretare sarebbe un qualcosa di perché a un certo punto tu mi dici qui dov'è che me l'hai detto non lo trovo più vabbè non lo trovo più mi parli di interpretazione interpretare non è dire le cose secondo il punto di vista interpretazione interpretare significa dare capire quello che il testo ci dice non è un qualcosa di personale come le capre agnostiche massoni new age e tutta sta gente qua ci vorrebbe far credere allora questo qua è interpretazione l'atto è più spesso il modo di interpretare cioè in genere di scoprire e spiegare quanto in uno scritto discorso è oscuro o oggetto di controversia di attribuire un significato voglio fare un po' più grande a ciò che si manifesta o è spesso in modo simbolico attraverso segni convenzionali o noti a pochi eccetera un'iscrizione di un segnale di una notizia di un messaggio della Bibbia delle sacre scritture della legge applicazione del precetto legislativo al caso concreto previo chiarimento dell'oscurità e integrazione delle lacune contenute nella legge e in senso improprio quella posta in essere dal potere legislativo cosiddetta autentica consistente in una legge emessa a chiarimento di una norma legislativa precedente questo è interpretare non è dire qualcosa di personale secondo me ma che vabbè va che amarezza dei trattati internazionali con qualificazioni diverse a seconda che si considerino i suoi effetti restrittiva estensiva estensiva eccetera il procedimento su cui si fonda grammaticale logica eccetera di un'allegoria dei sogni di una visione similmente in psicanalisi il processo mediante il quale l'analista delucida e dispone il significato altrimenti latente di un sogno di un sintomo o più generica di un comportamento non chiari perché inconsci degli auspici nella divinazione benevola maligna capziosa degli atti o delle parole di una persona e con significato affine a valutazione ottimistica dei fatti una corretta della situazione e sinonimi in particolare con riferimento a un testo passo facile difficile dubbia dare proporre affacciare un documentare difendere proposta accettare respingere confutare sicura esatta originale ingegnosa audace o ardita arbitraria forzata discutibile eccetera critica di un'opera letteraria o artistica disegno di una fotografia di una carta topografica spiegazione di ciò che i particolari del disegno la fotografia eccetera rappresentano questo significa interpretare interpretare non è dare un punto di vista personale che non c'entra nulla con quello che tu stai leggendo interpretare significa capire quello che il testo sta dicendo per esempio ci sono quattro tende da sole bene diamo l'interpretazione benissimo si tratta di quattro tende o tendoni che servono per coprire le persone dal sole non si tratta di quattro tende che porelle stanno da sole se stanno a noi e bisogna andare a fargli un po' di compagnia perché sono sole sono solette chiaro questo significa interpretare cari gnostici cari tra virgolette ok benissimo poi a un certo punto tu dici giustamente che praticamente dove sta ah ecco tu inizi col parlare che dopo aver messo al mondo il messia Maria ha vissuto domanda una vita di castità no oppure ha avuto una normale vita coniugale con Giuseppe sì la risposta a queste domande ok la può dare solo la parola di Dio ok e quindi tu hai dimostrato con la scrittura tipo Luca capitolo 1 dal 46 al 47 giustamente la scrittura dice Maria disse l'anima mia magnifica il Signore aspetta no Matteo capitolo 1 24 25 dice la scrittura addestatosi dal sonno Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa ma non si accostò a lei fino alla nascita del figlio e gli pose nome Gesù quindi qui la scrittura proprio specifica che non si accostò a lei fino alla nascita del Signore Gesù e lo vogliamo prendere quindi noi prendiamo Matteo capitolo 1 dal 24 al 25 eccolo qua dove sta egli non la conobbe finché ebbe partorito il suo figliuolo primogenito fino a quel momento infatti se io prendo la nuova riveduta anzi non la conobbe finché ella non ebbe partorito il suo figliuolo la cei dice vediamo quello che dice la cei la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che gli chiamò ecco qui la cei omette la cei omette la cei omette allora sono un po' falsi sono un po' falsi la nuova Diodati dice ma egli non la conobbe finché ebbe partorito il suo figlio primogenito va bene allora io ho il testo originale allora e adesso ve lo faccio vedere anche su internet i testi originali allora tanto per cominciare qui non si sta parlando di aramaico come ti hanno detto a te ti stanno prendendo in giro ok si sta parlando di greco antico e poi l'antico testamento non è aramaico è greco ebraico antico di aramaico c'è poco o niente ma questa e adesso ci arriviamo allora il testo originale in abbiamo detto che stiamo parlato di Matteo 1 24 no 25 allora Matteo 1 25 Matteo 1 25 dove sta speriamo che non si fa a lungo sto video allora cae eginos me eginos cen auten eos finché u etechen partorire etechen partorì uion figlio cae e e calesen chiamo il nome Gesù quindi quindi uten quindi lei lei eos finché figlio l'originale dice questo e la cei qui lo ha tolto lo ha completamente tolto la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che chiamò Gesù lo ha completamente tolto vogliamo vedere quello che dice la bibbia di gerusalemme vediamo seppure questa è falsa allora Matteo 1 25 dove sta eccolo qua la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio che egli chiamò Gesù l'ha tolto pure lei ok quindi cominciamo a vedere che ci stanno un po' dei problemi con queste revisioni vogliamo andare allora al testo originale allora hai fatto bene a scrivermi allora qualsiasi persona può seguire i miei movimenti tu apri la tua pagina e te vai a vedere se veramente esiste sta pagina tu io uso star page perché sono antisistema quindi non uso google ma se usi google è la stessa cosa scrivi codex allora codex sinaiticus fa invio allora eccolo qua codex sinaiticus punto org lo apri te lo apre a fianco eccolo qua e qui hai l'indice praticamente qui c'è scritto si the manuscript scrive vai qua eccolo qua qui praticamente abbiamo tutti i testi originali ok quindi questo è molto importante qui c'è una una tendina che tu la apri ti dà tutti quanti i libri della parola di dio scendi 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 questo è il più antico che c'è siamo nel 320 con questo manoscritto non è un manoscritto è un codex scusate andiamo in Matteo eccolo qua vai su Matteo ok abbiamo detto capitolo 1 ci siamo eccolo qua quindi verso 25 verso 25 scusate io devo fare un mouse nuovo allora 25 eccolo qua vediamo quello che dice il testo originale allora qui vedete qui avete avete la pagina originale questo è il codice il codex ok c'è il sinaiticus che è praticamente il più antico poi c'è il vaticano poi c'è l'alessandrino e così via questi sono i più antichi il più antico di tutti è questo ok 320 cioè è una roba antichissima più tutti papiri tutti i codici c'è praticamente abbiamo 5000 e passa manoscritti solo del nuovo testamento di prima mano che dimostrano che i testi non sono mai cambiati non come dicono questi gnostici questi massoni questa gente che mente che dicono che sono sempre stati cambiati e tutto quanto che poi loro dicono che non c'è un solo codice l'uno un solo manoscritto l'uno uguale all'altro questo è falso perché le circa 700 differenze che ci sono tra i vari manoscritti vanno a cambiare il contesto dello 0,3 o 4% tipo una virgola un punto una parola quello che veramente è un pochino più incisivo si contano sulla palma di una o due mani e non cambiano il contesto lo ripeto dello 0,3 o 4% questo caro amico cattolico questi gnostici questi massoni questi ufologi sono le capre non tu e anche qualcun altro che ha tolto dal dalla revisione ha tolto un qualcosa che non doveva essere tolto che adesso vedremo se c'è allora abbiamo detto verso 25 allora facciamo un pochino più grande il tutto ok aspetta perché se no poi dopo non purtroppo spero riuscite a vederlo ok allora allora vediamo se questo se può abbassare no allora 25 andiamo a caccia del 25 25 25 eccolo qua 24 25 perfetto allora vediamo io allora dove sta eccolo qua il 25 inizia da qua kai e huk kai vediamo se me lo prende ok questo lo facciamo un pochino più grande ok eccolo qua sta qua questo qua quindi è questa sezione qua ok kai huk vediamo e ghinoske e ghinoske ok e ghinoske eccolo qua kai huk e ghinoske eccolo qua e ghinoske e kai e huk negazione non e ghinoske e ghinoske conobbe uten eccolo qua e non conobbe uten lei uten lei ok e non conobbe lei eos finché eccolo qua eos finché e non conobbe lei finché questo finché è stato tolto da lacei eccolo qua la quale senza che egli la conoscesse partorì un figlio qui non appare questo finché u non e techen non partorì questo è stato tolto qui c'è questo è il testo originale cari amici cattolici e tutti quelli che ci state a seguire come denunciamo i nostri gli evangelici che appunto mettono la metafisica nella chiesa che d'evangelico non hanno il nome o falsi apostoli eccetera eccetera denunciamo pure il cattolicesimo quando fa appunto quello che fa questo qui è il codex inaiticus è il codice più antico al mondo che esiste attualmente e la bibbia cei lo ha tolto quindi caro amico cattolico ti hanno preso posso essere un po' volgari senza esserlo però normalmente noi evangelici non usiamo questo parlare perché non è cristiano ma questa volta te lo voglio proprio dire ti hanno preso per i fondelli letteralmente ti hanno preso per i fondelli quando ti hanno detto che le che queste sono bibbie vere e che quella che tu c'hai che dice la verità è mano messa non è vera ti hanno preso per i fondelli letteralmente più chiaro di così ragazzi miei qui c'è l'evidenza altro che ma mica è finita qua stiamo solo a riscaldare i motori aspetta ora viene il bello a noi dispiace dire queste cose ma come potete amare una religione più della parola di Dio e questo lo dico anche agli evangelici perché sappiate una cosa che quando il Signore e questo lo ridico piace a chi piace quando il Signore tornerà per rapire la sua chiesa dei 700 milioni di pentecostali ne rapirà il 5% l'altri rimangono qua non ci credi? non ci crede la greggia è molto piccola perché la maggior parte dei cattolici evangelici protestanti sono convertiti non a Cristo ma alla propria religione saranno molto pochi i rapiti molto pochi ovviamente il 5% è qualche milionata quindi farà un furore nel mondo incredibile ma è così quindi caro amico cattolico che mi hai scritto hai fatto bene a scrivermi che Dio ti benedica perché in questo canale si predica la verità poi Maria sempre vergine allora ascoltami bene oltre a tutte le cose che hai detto tu citando le scritture che Maria non poté rimanere vergine c'è un qualche cosa che grazie a Dio che il Signore ci ha aperto la mente per scoprirlo è che se Maria dopo aver partorito il Signore Gesù non avesse avuto relazioni sessuali con il marito avrebbe commesso peccato io non capisco ci fu un un ragazzo che io gli dissi questa cosa qua lo scrissi sotto a qualche video che mi scrisse e mi disse non faccio nomi noi rispettiamo la privacy eh ma dove sta scritto che che una coppia sposata deve per forza avere rapporti sessuali ma io dico no ma scusate ma ma veramente poi mi esce fuori romano e ti risponde ti dico ma ci sei o ci fai io te vorrebbe vedere a te che tu chiunque tu sia uomo o donna ti sposi con il tuo partner il giorno del matrimonio la luna di miele ve sposate andate nella camera dopo che avete avuto la funzione come si dovrebbe essere come dovrebbe essere in teoria se dovrebbe arrivare al matrimonio vergine ma non parliamo di questo adesso tu arrivi col tuo partner la moglie col marito il marito con la moglie e immagina che uno dei due ti dicesse no ma sai che c'è non facciamo l'amore ma tanto non è peccato ma tu immagina una cosa del genere la parola di Dio dice che la donna deve dare al marito quello che gli spetta e il marito deve dare alla donna quello che gli spetta e non si devono separare se non per dedicarsi un tempo un periodo alla preghiera e al digiuno e poi specifica tornare insieme questo è un comandamento di Dio se poi per te i comandamenti di Dio trovano il tempo che trovano beh amico mio tu sei convertito alla tua religione tu sei convertito a te stesso alle tue idee perfino nel mondo il matrimonio viene annullato se il rapporto sessuale non si consuma entro totte tempo in alcune nazioni succede questo non so qui in Italia attualmente ma in alcune nazioni funziona così quindi se Maria non avesse dato a Giuseppe quello che gli spettava per diritto avrebbe peccato di che stiamo a parlare Maria non ha conosciuto Giuseppe si quindi Maria è stata una grande peccatrice siamo tutti peccatori ma un conto essere peccatori è un conto vivere il peccato Maria non non fu così fu una donna esemplare peccatrice peccò perché dove sta scritto che peccò quando andò da Gesù e gli diede del matto l'hai citato tu il passo quando andò e gli disse sta fuori di testa e gli disse e lì Gesù gli dice appunto chi è mia madre chi sono i miei fratelli loro lo erano andati a cercare perché stava diceva Maria fuori di testa che era completamente impazzito praticamente gli stava dando del matto e quindi dare del matto al Signore è un grave peccato quindi Maria altro che immacolata e in più c'è il passo di Apocalisse che già l'abbiamo citato a più non posso che quando gli fu chiesto a Giovanni che era stato rapito su nel terzo cielo chi è degno di aprire il libro e siccome nessuno nel cielo era stato trovato che fosse degno di aprire quel libro Giovanni piangeva e l'angelo gli disse ma perché piangi c'è l'agnello che ha vinto per aprire ed è degno per aprire questo libro perché Maria non andò ad aprire il libro perché neanche lei è degna e perché non è degna che siamo tutti peccatori quindi Maria immacolata ma lascia glielo credere a chi lo vuole credere io ho fatto sto video finisce qua e ragazzi per me potete pure adora il palo della luce ma che mi importa figurati i commenti sono aperti sotto al video puoi tu che dici queste cose magari sei cattolico te lo dico proprio in maniera proprio come giusto puoi vomitare tutte le porcherie che vuoi vai spara io una volta che ti ho detto la verità il mio compito è finito quindi caro amico cattolico ben dici posso capire se uno dei due si ammala si ammala e allora non è più possibile o per causa dell'età avere relazioni sessuali questo è un altro discorso ma Maria stava bene fisicamente come faccio a saperlo facile basta leggere la scrittura se faceva da nord a sud la terra di Israele per andare dietro il figlio a dirgli che non stava bene di testa quindi camminava bene altro che quindi non stava male da non poter avere relazioni col marito quindi non diciamo sciocchezze benissimo quindi già insomma stiamo cominciando a vedere che ci sono parecchie cose che non vanno in quello che asserisce il mondo cattolico poi tu mi scrivi come vedi no qui mi è tornato la vista tu dici che sono una capra no come vedi sono gli altri capri tu non sei capra allora ecco dove era il termine le scritture che gli ho postato con le mie interpretazioni sono corrette sì sono corrette e abbiamo già visto quello che significa interpretare poi la versione della bibbia che ho usato è una bibbia cattolica versione san paolo anno 1997 mi hanno detto che è una bibbia eretica come tante altre per loro quella giusta è la gerusalemme non penso sia così l'abbiamo visto questa è deve essere questa ah gerusalemme eccola qua scusa io no eccola qua quindi per loro quella giusta è questa ma a noi abbiamo abbiamo visto il codice originale il testo originale che sarebbe il codex inaiticus il più antico e indiscusso perché funziona così ma non ve sto pure a spiegare questo non faccio come le capre gnostiche che che dicono ah perché il la la Stuttgartensia dice guarda che i manoscritti sono una infinità non esiste solo la Stuttgartensia capra gnostica capra gnostica ecco voi avete un bagaglio culturale così piccolo e volete mettervi in cattedra a insegnare non potete farlo non siete all'altezza quindi come abbiamo visto questa qui è una Bibbia fatta da capre questo è il testo originale caro amico cattolico quindi abbiamo tu dici non penso sia così no esatto bravo giusto ecco poi viene la barzelletta io la chiamo la barzelletta terza domanda mi domandi loro dicono che in lingua originale aramaico allora questo che che libro è Matteo ok che lingue è questa dice greco bravo il greco e l'aramaico l'aramaico e il greco sono lingue sono lingue uguali quando diciamo greco antico diciamo aramaico domanda dice no ecco sono due lingue completamente diverse vogliamo prendere un altro libro vogliamo prendere alle volte non lo so mi è sfuggito in tutti i stanni che magari il nuovo testamento è stato scritto in aramaico chissà Giovanni vediamo come è stato scritto guarda pure Giovanni è stato scritto in greco ma guarda un po' che cosa abbiamo scoperto eccolo qua guarda vabbè forse 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 qualcun altro magari ti stai a sbagliare qualcosa di aramaico c'è nel nuovo testamento andiamo a vedere prendiamo Tito come è stato scritto Tito guarda pure Tito è stato scritto ma guarda un po' te ma tu guarda un po' che qui ma non è che se sono sbagliati ma guarda un po' te che altro vogliamo prendere ebrei ebrei non si sa chi l'ha scritto però chi l'ha scritto l'ha scritto ma è stato scritto in ecco qua tiè caro amico cattolico tutto il nuovo testamento non è stato scritto in aramaico è stato scritto in greco antico e quando queste capre ti hanno detto che in aramaico ok i cugini i parenti vengono chiamati fratelli ok perché non esistono parole perché questo dicono i cattolici per la definizione di cugino ti hanno detto una bufala primo perché il nuovo testamento è stato scritto in greco antico secondo in greco antico per la parola cugino a differenza non dell'aramaico ma del ebraico antico esiste come la parola a voglia se esiste bene non ci credi vero non ci credete no tu lo so che me credi allora vogliamo vedere te lo faccio vedere guarda noi qui portiamo puntualmente allora anepsios anepsios aspetta che ce l'ho qua dove sta ecco allora questo è il dizionario greco antico ok va bene questo è il dizionario greco antico lo facciamo un pochino più grande ok allora lo mettiamo un pochino più basso lo mettiamo un pochino più grande eccolo qua e lo mettiamo qua tu vai qua ti apre una serie di situazioni tra cui ti dà la possibilità di scegliere greco antico italiano ovvero italiano greco antico ok tu metti greco antico italiano ce ne apriamo due di pagine una qui una là quindi sono due due pagine analogamente aperte quindi qui c'è scritto dizionario greco antico e italiano greco antico questo è l'indirizzo se lo vuoi andare a visionare allora mettiamo la parola cugino che si dice dovrebbe dirsi in due maniere cugino anche più di due vediamo se veramente in greco antico esiste un termine per identificare il parente più prossimo o tipo il cugino facciamo invio uuuu eccolo qua che ti avevo detto io adepsios scusate adepsios e c'è anche un altro termine che viene utilizzato per dire cugino ed è exadeltos fos exadelfos eccolo qua exadelfos oppure anepsios che significa cugino e come si dice fratelli adelfos dovrebbe essere adelfos fratello vediamo se è così sì adelfos adelfos con la f è una cosa ma anepsios con la psi e cugino cose completamente diverse quindi in greco antico la parola cugino come ditono i cattolici esiste come e nel passo specifico che tu mi citi tutti i passi che tu mi citi troviamo la parola adelfos che significa fratello benissimo ora vogliamo vedere no vabbè ma il testo originale lo dice che era Marco 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 ecco qua che era Marco 6 Marco 6 era aspetta che voglio vedere dovrebbe essere Marco 6 allora Marco Marco 6 o Marco 3 me sono scordato allora no Marco 3 e vabbè me sono scordato Marco 3 oh mica mi posso ricordare tutto allora Marco 3 Marco 3 32 30 31 32 un po' dappertutto sta pure il 31 ecco qua allora Marco 3 ne prendo uno a caso il 31 32 33 34 tutti quanti questi portano la parola vediamo se portano la parola Adelfos ecco qua ecco qua ecco qua allora ecco qua ecco qua ecco qua Adelfoio e così a susseguire anche questa te la dovrebbe c'è pure nel verso 32 eccolo qua Adelfoi eccolo qua nel verso 33 pure ci dovrebbe essere eccolo qui Adelfoi quindi parla di fratelli veri allora guarda che ti faccio vedere questo è il rocci ok rocci greco italiano ok non è italiano greco è greco italiano non so mai cosa esiste italiano greco allora se io vado a prendere la parola allora anepsios che sarebbe questa anepsios dove sta eccolo qua anepsios o vado a prendere ex adelfos no mi dice appunto che si tratta di cugini però se io vado a prendere questa parola qua questa chiudiamola non ci serve più che sarebbe appunto fratello Adelfos ok ti leggo tutto quello che mi dice non te lo faccio vedere con la webcam perché sta webcam non non prende i caratteri così piccoli allora Adelfos io vado a prendere allora allora alfa beta gamma delta epsilon la alfa Adelfos 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 e cacqua Adelfos vabbè ma la voglio prendere lo stesso anche se non si vede per una questione di correttezza poi io ce la metto tutta poi la telecamera non ce l'ho purtroppo allora fammi un po' abbassare qua per vedere quello che vi sto facendo vedere eccolo qua ok ok questo è allora non si vede in H però questo c'ho allora la parola Adelfe femminile eccola qua Adelfe vedete il rocci mi dà proprio in modo rigoroso sorella sorella non so se riuscite a vederlo sorella si vede sorella Adelfa Adelfe Adelfes ok sorella punto poi dice Adelfia Adelfia mi dice vedere precedente vedi precedente poi Adelfideos che è un'altra cosa allora lì a quel punto mi inizia a dare nipote del fratello Adelfideos che è un'altra cosa non è Adelfe Adelfideos poi mentre invece Adelfide Adelfide mi dà nipote del fratello ma Adelfe mi dà sorella mentre il termine Adelfixis mi dà fraternità affinità Adelfion Adelfion scusate To mi dà fratellino ecco da notare molto bene che la parola le due parole quando la parola Adelfos viene unita un'altra parola Cnoneo quindi Adelfo Cnoneo significa uccido il fratello o la sorella Adelfo Cnonea sta per fraticidio rigorosamente vero è che la parola Adelfos si può affiancare con altri significati ma il primo significato della parola Adelfos è il seguente Adelfos Adelfu Adelfo con psilosi e termine indicante il seno materno ok questo è molto importante poi Adelfe Ion Adelfeos Adelfeios Feo sta per eccolo qua fratello fratello non si vede in H lo so questa è la webcam non ce l'ho una buona non ce posso fare niente quindi fratelli e sorelle Adelfeos Ap ok fratello per parte di padre e di madre ok poi B c'ha anche altri significati dopo dopo come fratello nel senso di parente con fratello con nazionale della stessa religione tribù amico intimo socio nt ios religioso ok ma come aggettivo fraterno di fratello o sorella sta con Adelfeos Keires Mani e Adelfeos fratello fraterno di fratello o sorella sta per doppio gemello Adelfa gli organi doppi occhi piedi mani eccetera a fine analogo somigliante eccetera 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 Allora vediamo vediamo un po' ok aspettiamo meglio lo sistemato perché sennò qua stava fattuto in diretta un po' casareccia la cosa ok ok quindi la domanda del milione è perché gli scrittori mo te faccio vedere una bella cosa perché gli scrittori del nuovo testamento hanno usato questa parola che normalmente viene usata per fratello e non per altro quando potevano usare queste due parole è qua questa è la domanda del milione e ti dirò di più il libro di Tobia che mo te vado a prende Tobia allora il libro di Tobia dovrebbe essere capitolo capitolo undici Tobia undici eccolo qua andiamo a cercare la parola cugino utilizza il termine cugini quindi Tobia capitolo undici verso diciannove dice che Akikar e Nadab suoi cugini vennero a congratularsi con Tobi vediamo se il linguaggio originale se il linguaggio originale usa per cugini la parola Adelfos che significa fratello ovvero usa una di queste due parole quali Anepsios ovvero Ex Adelfos vogliamo vedere andiamo a vedere il testo originale tanto caro a noi allora questo siamo di nuovo sul codex Sinaiticus vado a prendere Tobia Tobia lo vado a cercare eccolo qua Tobia questo è Tobit eccolo qua vado a cercare il capitolo undici vado sul verso abbiamo detto diciannove sarebbe questo questo è eccolo qua questa è la parte che tiene il verso diciannove vogliamo fare più grande il manoscritto originale vogliamo vedere il diciannove eccolo qua diciannove andiamo un pochino a vedere il diciannove quello che dice allora ecco qua no allora ah sì e eccolo Grazie a tutti. Ecco perché non lo trovavo. Stavo al 12-19. E vabbè, mi sono sbagliato. È 11-19. Infatti dicevo io, ma com'è che non c'è? No, no, è questo. Questo è l'11-19 e poi inizia il 12. Io praticamente stavo al 12-19. Invece è 11-19. Pensavo che questo era l'11. E mi sono sbagliato. Eccolo qua. Oh, l'ho trovato subito. Eccolo qua. Ho exa del foi. Eccolo qua. Exa del fos. Exa del fos. Exa del fos. Accento sulla A. Sull'alfa. Exa del fos. E questo è. Eccolo qua. Exa del fos. Perché oi è plurale. Mentre invece os è singolare. Molto semplice perché c'è oi e non c'è os. Os è singolare. Oi è plurale. Quindi. Exa del fos. Sta per cugini. Perché Tobia, il testo originale, non usa questo termine qua. Adel fos. Che significa appunto fratello. Orte che può significare, anche se poco usato e lontanamente, parenti lontani. E usa invece questo qua. Exa del fos. E' una domanda che noi poniamo. E sono le vostre stesse revisioni che lo dicono. Ma andiamo avanti perché tu, non so se poi mai fatto altre domande. Quindi. Quindi. L'aramaico. Qual è la traduzione corretta? La traduzione corretta in aramaico non esiste perché la Bibbia non è stata scritta in aramaico per quanto riguarda il Nuovo Testamento. Casomai si parla di nuovo, di greco antico. Ok. Gli scrittori, gli scrittori, hanno specificato, gli scrittori del Nuovo Testamento, che si trattava di Adel fos, perché appunto fratelli, altrimenti, in maniera più circoscritta, avrebbero usato questa parola qua, che è exa del fos o anepsios, che questo significa proprio, in maniera proprio circoscritta, cugino. Loro hanno usato questa parola qua, Adel fos, che è la parola normale che viene usata per fratello, e a conferma di questo, il Codex Sinaiticus, nel libro di Tobia, essendo cugini, non si è sognato minimamente di inserire nel testo questa parola qui, Adel fos, che è fratello, piuttosto hanno usato questa, exa del fos, che sta in modo proprio chiaro a indicare cugini e non fratelli. E stiamo parlando di Tobia, Antico Testamento. Un libro, tra l'altro, che non è canonico, ma non ci interessa la canonicità del libro, quanto il linguaggio che utilizza il libro. Questo è quanto. Cari amici, in ascolto. Ok, che dire di più? Maria è madre di Dio? Maria non è la madre di Dio. Dice Maria, Gesù è Dio, quindi Maria è la madre di Dio. Ma lo vedi che sei, che sei proprio capoccione. Gesù Cristo, ma ti devo far vedere Filippesi capitolo 2, ha preso un corpo d'uomo. Maria è stata la madre di quel corpo, c'è lo strumento, o se vogliamo dire la madre, di quel corpo. Quando il Signore Gesù Cristo è risorto ed è tornato su nel cielo, in questo momento, su nel cielo, Gesù non sta con un corpo d'uomo. Carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. Inoltre Gesù non è né carne né sangue. Cioè Dio non è né carne né sangue. Maria è stata madre del corpo. Lo strumento del corpo, possiamo dire lo strumento del corpo. Ma non madre di Dio. Poi, che tu non lo vogli accettare, detto proprio alla Romana, ma chi se ne importa, ma fa come ti pare. Tanto chi rifiuta questo messaggio, non vedrà la gloria di Dio. Perché preferisce credere al proprio io, alla propria religione, che è la parola di Dio. Maria non è madre di Dio. Punto e basta. Non lo vuoi accettare, chi se ne importa. Fa come ti pare, ma figurati. Poi. Mi pare che abbiamo detto tutto? Va bene, caro amico cattolico. Io ti ho fatto vedere tutto. Tio. Tio. Io ti ho apportato tutte le delucidazioni che sono stato un grado di apportare nel nostro piccolo. Noi cerchiamo di aiutare. Non so se ti è stato utile quello che ho detto, quello che sono riuscito a dimostrare. Se ci sono altre perplessità, fammi sapere. Noi siamo qui disponibili. E questo video ha fatto bene sicuramente a molti. Abbiamo visto che cose che non vanno ce ne stanno. Ce ne stanno cose che non vanno. Ma ad ogni modo, ad ogni modo, vi voglio ricordare che anche se, anche se, non ci fosse nel testo originale quello che ci dovrebbe essere, come appunto descritto, che era Matteo 1,25, il contesto ci fa capire perfettamente che quello che noi abbiamo detto è verità. Proprio il contesto. Quindi anche se tu una parte, una parte, non la traduci come si conviene, perché poi tutte le traduzioni hanno dei problemi, ma la traduzione, pur essendo imperfetta, si dimostra perfetta. Perché? A meno che non è una manomissione tipo quella dei testimoni di Geova o quella della Bibbia degli omosessuali, dove lì si tratta di manomissioni. Ma se no, le Bibbie, pur essendo imperfette, le traduzioni, pur essendo imperfette, sono perfette perché nel contesto e col sistema a ridondanza alla fine si arriva a tutto pur senza conoscere un H del linguaggio originale. Quindi qual è il mio consiglio da darti? Continua a usare tutte le revisioni cattoliche, compresa questa. Prendi pure quelle nostre e usa le tutte. Usa la Luzzi, la vecchia di Odati, soprattutto la vecchia di Odati è una delle migliori, ma non è perfetta. La vecchia di Odati, la Bibbia di Gerusalemme, quella che c'hai, posa le tutte e cerca la faccia del Signore. Poi tu mi chiedi cosa fare. Se me pare che tu mi dici che devo fare, devo uscire o qualcosa del genere, di cosa ti devi ravedere? Sono l'art che si devono ravedere, no tu? Che cosa devi fare? Ma normalmente quando un cattolico, e questo lo sa chi mi ha scritto, mi chiede che cosa devo fare, guarda, in te è chiaro che c'è l'opera di Dio, perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Sarà sempre lo Spirito Santo a dirti quello che devi fare, non te lo voglio dire io, lascia l'opera allo Spirito Santo, mettiti in preghiera, prega il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo, non pregare i Santi. Pregare significa adorare, attenzione, altro che venerare, e cerca nella sua parola cosa devi fare, lì c'è scritto quello che devi fare, io non te lo dico, ma lì c'è scritto, c'è scritto tutto, lì saprai quello che devi fare, altro che se c'è scritto nero su bianco. Prega il Signore che ti illumini e ti faccia sapere, ognuno di noi ha il suo percorso, va bene? Mi pare che sei romano? Perché a un certo punto tu fai una mezza uscita un po' romana, ma non lo so se l'hai fatta apposta o sei proprio romano, se sei romano sei il meglio! No, scherzo. Ok, ho fatto la battuta. Niente, c'è poco da scherzare, però la battuta l'ho fatta. Niente, capisco che puoi stare in crisi e non andare in crisi, rallegrati. La verità non ti getti in crisi, non stare in crisi, rallegrati. Non stare in crisi, rallegrati, che hai trovato la verità, hai trovato Gesù, hai trovato la perla di grande valore. Ti pare poco e vai in crisi, manda l'altro in crisi. da meretta. Sii forte, fortificati nella parola di Dio, saldo. Va bene? Quindi, caro amico, romano o non romano, quello che è, al di là della battuta, che Dio ti benedica, grazie per averci investito con le tue perplessità e siamo qua. Qualsiasi cosa puoi continuare a scriverci. Questo vale per tutti quanti gli altri. Un saluto a tutti gli amici, un saluto alla Sicilia, che so tanti gli siciliani che ci seguono, l'abbiamo visto dal nostro canale, insomma, sede veramente tanti. Grazie, che Dio vi benedica. Tanti catanesi, assalute, un giorno c'è verrà in Catania, chissà, non lo so. Bene, un abbraccio e grazie per essere stati con noi fino qua. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci si vede al prossimo videoprogramma. Shalom.